Il 22 febbraio sono stato invitato a partecipare all'evento di e-commerce food a Bologna e voglio parlarvi della mia esperienza e dell'importanza di partecipare ad eventi che in questo caso appunto è e-commerce food, ma ne approfitto per farne dei discorsi generali e dei consigli pratici che tutti possono applicare. Ciao a tutti, io sono Paolo Santanicchia, mi occupo di realizzare campagne su Meta dal 2017, quindi su Facebook e Instagram, per e-commerce come libero professionista, quindi collaboro con più di un e-commerce e più di un progetto, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi di business tramite campagne pubblicitarie basate sulla psicologia dei consumatori. Quello che vi voglio mostrare oggi è semplicemente un mini-vlog in cui vi porto con me nel viaggio e nella partecipazione di un'esperienza come e-commerce food dandovi anche i miei pareri personali a riguardo. Sono stato invitato a partecipare a questo evento da Domenico Visone che oltretutto era uno degli speaker di e-commerce food e approfitto di nuovo per ringraziarlo pubblicamente per avermi invitato, per avermi dato questa opportunità e sono partito anche in occasione appunto di questo evento da Milano con la mia macchina ma in questo viaggio non sono stato solo e infatti ho portato due persone con me che adesso vedrete nel video. Buongiorno ragazzi, è il 22 febbraio, sono le 7.20 circa, anche questa volta vi sono svegliato presto, non per mia scelta in realtà ma perché sto andando all'e-commerce food che è un evento che si trova a Bologna che appunto è a tema e-commerce soprattutto nel settore food e avendo io dei clienti per cui gestisco le pubblicità su meta che esattamente rientrano in questo settore quindi del food mi sembrava particolarmente interessante. In realtà sono stato invitato da Domenico Visone che tra l'altro sarà uno degli speaker credo proprio oggi alle ore 16 che mi ha appunto invitato a questo evento e ho deciso di accettare appunto l'invito molto volentieri. Non sarò solo in questo viaggio di tre ore che mi aspettano in macchina ma sarò con due ospiti d'onore. Eccone uno! Nel blog di amore posso entrare anche nel tuo. Davvero? Ecco il secondo! Adesso ci racconti. Come c'erano Tommaso Preti che è un mio carissimo amico e project manager per varie agenzie e Maru che invece è un developer su Shopify e entrambi erano di Milano e abbiamo organizzato questa macchinata per farci il viaggio insieme. Dopo circa due ore e quaranta, tre ore siamo arrivati effettivamente alla struttura che ospitava questo evento che se non sbaglio si chiama Fico che non era altro che una grandissima struttura con padiglioni che immagino sia dedicato a ospitare eventi e fiere. La struttura dell'evento era un po' particolare c'era un corridoio unico con vari sponsor e sull'angolino della sala c'era invece una parte in cui c'erano gli speaker a parlare ma appunto per evitare distrazioni e per cercare di sovrastare il casino di persone che giustamente passavano e parlavano lì vicino si trattava di speech con le cuffie quindi il microfono dal quale lo speaker parlava invece di essere collegate a delle casse erano collegate a delle cuffie bluetooth che il pubblico aveva. Questo diciamo che non ha permesso la perfetta integrazione tra la parte dedicata allo speech e la parte dedicata agli sponsor ma poi in realtà ho scoperto che c'erano anche dei main stage o comunque dei stage che erano molto nascosti infatti erano poco frequentati dalle persone. Questo non è assolutamente una critica negativa anzi era un modo particolare di realizzare un evento proprio a livello di struttura è stato comunque molto interessante e molto particolare. All'evento ho conosciuto un po' di persone molto interessanti ho avuto anche l'occasione di conoscere di persona Tom Pieretti che sicuramente avrete visto su LinkedIn se bazzicate un po' LinkedIn Italia nel marketing saprete sicuramente chi è e ci siamo scambiati tantissimi spunti molto interessanti lui ormai ha un'agenzia di marketing con vari collaboratori di cui molti li conosco anche io e in realtà visto che Tommaso era amico dell'altro Tommaso abbiamo avuto modo di condividere anche pranzo e cena insieme e sono nati degli spunti davvero molto interessanti. Quello che fa infatti la differenza in questo tipo di eventi non solo tanto la parte di speech quanto la qualità delle persone che partecipano a questi eventi infatti secondo me la valutazione complessiva della qualità di un evento consiste soprattutto nel tipo di persone che ci sono lì a e-commerce food ho trovato tantissime persone di veramente alto livello persone che avevano agenzie da tantissimi anni o persone che comunque erano ad un livello molto avanzato di conoscenza nella materia quindi del marketing e magari anche conosciute nel panorama quindi non erano presenti come invece accade ad altri eventi persone non esperte o magari a cui viene venuto un sogno di fare marketing o di fare e-commerce bensì persone che erano estremamente sul pezzo e che erano a questo evento puramente per formarsi confrontarsi approfittando del tema molto specifico dell'evento infatti anche il fatto che si trattasse di non un evento sull'e-commerce ma di un evento sull'e-commerce nel food ha permesso di filtrare le persone secondo me portando quelle solo veramente interessate e che veramente avevano un desiderio di conoscere di approfondire specifici temi di partecipare appunto a questo evento io in particolare ho un e-commerce che gestisco nell'ambito del food forse è uscito o uscirà un caso studio proprio su questo canale youtube se non è ancora uscito ti invito a iscriverti al canale per non perdertelo perché è un caso studio davvero molto interessante e qui appunto all'e-commerce food ho avuto l'occasione di incontrare tantissime persone che già lavorano nel marketing di e-commerce che facevano parte esattamente di questa nicchia quindi ho ottenuto tantissimi spunti molto interessanti e anche qui come al solito la qualità e gli spunti che si possono prendere da un evento lo fanno soprattutto le persone che vi partecipano speaker inclusi e la qualità e profondità dei discorsi che si possono fare appunto tra partecipanti e anche tra gli speaker sempre a proposito di speakers poi ho avuto modo di ascoltare uno degli speech che ha fatto Domenico che appunto è il ragazzo che mi ha invitato che ha parlato di come lanciare un e-commerce migrandolo su Shopify in maniera tale da ottimizzare sia i tempi di realizzazione di un e-commerce sia appunto alcune questioni logistiche strutturali ed è stato super interessante soprattutto è stato bellissimo vedere come una persona che prima di tutto è un amico ha fatto veramente una scalata incredibile passando da studente di e-commerce school a effettivamente fare non uno ma se non sbaglio tre speech dico se non sbaglio perché il primo giorno quindi il giorno in cui sono venuto io che era il 22 ha fatto uno speech ma so che il giorno successivo a cui purtroppo non ho potuto partecipare ne ha fatti sicuramente uno se non addirittura due quindi a parte il piacere personale di vedere un amico essere dall'altra parte quindi dalla parte dello speaker ho avuto davvero anche tantissimi spunti dal punto di vista di e-commerce perché quando si fa marketing soprattutto per e-commerce si tende a pensare che il marketing sia l'unica cosa che conta o comunque la cosa fondamentale che determina il successo o l'insuccesso di un e-commerce in realtà ho avuto modo di riconfermare grazie allo speech di Domenico che ci sono tantissime altre cose da tenere in considerazione prima di tutto la logistica che è di base il fondamento dell'e-commerce perché si basa esattamente sulle spedizioni ma anche appunto su magazzino e su come gestire alcune questioni più interne nell'e-commerce che non fanno necessariamente parte della strategia di marketing e su cui il marketing magari non ha nemmeno potere di modificare, migliorare o cambiare comunque dopo pranzo a base di cibo emiliano che non delude mai abbiamo fatto un po' di brainstorming generali ho visto alcune persone registrare dei PGC salvo ma questo è un PGC è un SGC non ho idea di cosa sto mangiando da cavia però è un nuovo modo di produrre contenuti che se non lo sapete è un modo che io utilizzo per chiamare all'inizio è nata come cosa ironica ma in realtà si basa su un concetto fondamentale io lo chiamo PGC per definire i Paolo Generated Content quindi i contenuti generati da Paolo che in questo caso è Paolo ma in realtà può essere chiunque si occupi della parte strategica e operativa della creazione di pubblicità che consiste effettivamente nel realizzare i contenuti come se noi stessi fossimo dei clienti dei prodotti che stiamo sponsorizzando appunto facendo dei video e delle foto in cui noi siamo il soggetto e noi utilizziamo il prodotto ho fatto tantissimi video a tema PGC e ho fatto tantissimi video in cui parlo dell'importanza e dell'efficacia di realizzare pubblicità di questo tipo ed è un servizio che io applico su tutti gli e-commerce che gestisco poiché in questo modo posso essere più veloce e più efficiente per i miei clienti in maniera tale da non essere mai senza contenuti che è uno dei problemi che vedo più spesso nella gestione di campagne pubblicitarie ovvero l'impossibilità o semplicemente la difficoltà da parte dei clienti da parte di chi ha un e-commerce di creare più contenuti che in realtà è fondamentale per scalare le campagne pubblicitarie quindi se abbiamo bisogno di scalare e non abbiamo contenuti è un bel problema che appunto per gli e-commerce a cui faccio consulenza risolvo semplicemente facendomi spedire il prodotto a casa e realizzando io i contenuti per loro ma a parte questa breve parentesi ci siamo poi organizzati per la cena e qui è arrivato anche un ospite d'onore che è Jacopo Gollini che è venuto direttamente da Mantova e con cui appunto è sempre un piacere parlare e scambiarsi opinioni e confronti e solo dopo cena all'incirca verso mezzanotte o addirittura luna mi sono diretto verso il B&B che avevo prenotato e che ho sfruttato per la bellezza di 4 ore poiché appunto 4 ore dopo mi sarei dovuto svegliare per ripartire non verso Milano verso un'altra destinazione poiché avevo altre cose da fare però sostanzialmente ho fatto parte di un bellissimo tour de force che in quella settimana ho fatto in particolare se avete visto il mio video dei miei due giorni di formazione capite esattamente di cosa sto parlando e capite esattamente del perché avevo bisogno di un po' più di ore di sonno però è stato comunque bellissimo è stato un evento di altissimo livello proprio per la qualità delle persone e degli speaker che c'erano e ci tengo a ribadire questi eventi sono fondamentali per conoscere più persone che sono nell'ambito sono nel settore magari da più tempo di noi o che semplicemente appena con delle strategie a cui noi non avevamo mai pensato e che sono sempre molto utili e molto stimolanti e ci permettono di migliorare sempre il nostro lavoro soprattutto permettono a me di rimanere sempre aggiornato e di offrire sempre la soluzione più avanzata e più efficiente per i miei clienti sulla base di tutti gli spunti che riesco a recepire da questo tipo di eventi per il video di oggi è tutto volevo solo rendervi partecipe di questa piccola esperienza che ho fatto che non è la prima e non sarà l'ultima vi ricordo di seguirmi sui miei principali canali social in cui ogni giorno cerco di portare contenuti gratuiti sia formativi sia un po' più laterali che riguardano comunque il mio lavoro da meta ad specialist quindi di creare lanciare gestire campagne pubblicitarie che ovviamente non si limita solo alla parte lavorativa la parte di tutorial ma anche soprattutto a questi eventi momenti di formazione aggiornamento e confronti e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale per non perdervi altri video come questo noi ci vediamo al prossimo video vi ringrazio per aver guardato questo e vi auguro una buona giornata ciao